Il progetto di parco eolico del Santadonna a Forgotare, intanto è un parco eolico molto particolare, già in questa diopositiva c'è molto, in senso che fa vedere quali sono le sproporzioni rispetto a un parco eolico magari in cui siamo abituati a vedere in altre zone dell'Apennino. Questa è la cronologia del progetto, il progetto è stato presentato un anno e mezzo fa come un progetto da tre pale, quando ancora la competenza era regionale per la valutazione di impatto ambientale, dopodiché nel maggio dell'anno scorso, dopo una cospicua serie di osservazioni della regione che valutava molte carenze del progetto di tre pale, sempre da 150 metri, il proponente chiedeva di passare da tre pale eoliche da 150 metri a 29 pale, quindi di fatto stravolgendo quello che era il progetto iniziale. Adesso siamo nella fase in cui siamo nei 60 giorni di tempo per presentare tutte le osservazioni possibili, quindi le osservazioni del Comitato, le osservazioni di tante altre associazioni che già si sono dette disponibili a presentare molte osservazioni, perché ci sono davvero tanti aspetti non chiari di questo progetto e che hanno sollevato molti dubbi e molte preoccupazioni da parte della gente e da parte delle associazioni. Il palto appunto prevede nove pale dell'altezza pari a 148,5 metri di 3,37 MW luna, quindi quattro volte la potenza delle pale che si possono vedere sopra l'albaretto, noi siamo vittuati a quelle quattro pareti che vedete lì sotto, le proprie pareti non sono perché anche quelle sono 70 metri, sino ad oggi chi andava su vedeva un'opera già di una certa rilevanza, queste sarebbero pale alte più del doppio e quattro volte la potenza di ciascuna delle pale di albaretto. Un altro rapporto che dovrebbe far molto pensare è il confronto con il castello di Bardi ad esempio, il castello di Bardi è l'opera umana più grande costruita nei millenni nell'altra valle del Ceno e del Taro. Il castello di Bardi ha alto circa 30 euro, l'altezza massima che è quella del Mastio centrale. Queste pale sarebbero cinque volte l'altezza del castello di Bardi e sarebbero due volte la lunghezza dell'alto maggiore del castello di Bardi, quindi immaginate che la bruttista di fatto fisico se noi mettessimo il castello in piedi, ce ne vorremmo un altro castello per avere lo stesso impatto fisico sopra quello, quindi di questi torri chiaramente ce ne sono nove, quindi immaginatevi l'impatto fisico di 18 castelli di Bardi che non saranno belli purtroppo come il castello di Bardi, anzi non sarebbero, usiamo il condizionale perché siamo convinti che le preoccupazioni e i dubbi siano attraverso tanti per cui questo progetto dovrà essere come minimo molto rivisto se non siano addirittura conciato totalmente. Questa è la pana che hanno proposto che è circa 100 metri d'altezza del palo più circa 100 metri di alto, quindi complessivamente circa 150 metri dell'altezza massima. La zona di Progetto è questa, è all'interno del triangolo compreso tra i tre comuni di Bardi, Compiano e Borgotaro ed è proprio sulla strada che colleghi i due comuni tra Borgotaro e Bardi. La zona in questa è una zona densamente popolata e in particolare è una zona che negli ultimi tempi ha ricominciato anche a ripopolarsi, una delle poche zone che ha invernito la tendenza dell'Apennino. È una zona di eventurismi, di belle breakfast, ci sono molte frazioni che sono veramente vicine alle pare, a circa un settembre di Bardi, la costa e il porcicatore nel comune di Borgotaro e così via. Altra presenta molto importante è l'osi dei Chiarari, che è diventata di recente per una parte riserva naturale regionale, quindi diciamo un'area protetta di particolare importanza in una zona che di aree protette a livello quantomeno regionale non è altra. Abbiamo fatto negli ultimi giorni anche degli altri fotomontaggi, perché i fotomontaggi che abbiamo visto non è che ci soddisfacessero interamente, nel senso che erano soprattutto da Borgotaro, comunque da colazioni che non erano proprio così interessanti, che non faceva vedere bene l'impatto. Questa è la lista sul porcicatore e queste non sono immagini per ingigantire il rapporto delle pare, queste sono riproduzioni in scala reale, nel senso che abbiamo fatto il modello con Google Earth e lo abbiamo incrociato con le foto sul posto, in modo da non fare degli errori anche di valutazione delle dimensioni delle pare. Questa è la zona del taglio sopra Borgotaro, si intravvede la chiesa di Porcicatore. Facendo un ingrandimento, vedete, queste sono dimensioni reali. Non so se vi rendete conto dell'impatto che hanno sulle frazioni circostanti. Già questa immagine mi fa capire che veramente gli abitanti di quella zona non potranno far altro che vedere ridotti i valori immobiliari, quantomeno se non disturbata per sempre la loro quiete e la loro senerità abitativa. Questa invece è vista dall'altra zona, vista da Osacca, che è la frazione, non è l'abitato più vicino, perché ci sono anche degli altri abitati ancora più vicini, però diciamo che il nucleo frazionale è più vicino dalla parte murale. Anche qua vedete che no, anche queste sono dimensioni reali, non è che siano dimensioni ingigantite per fare calcone. Anche questo è un dettaglio, vedete, che sono veramente incondenti. Il giorno di Pasquetto e siamo andati in giro per le frazioni c'erano le persone veramente molto preoccupate, c'è una piccola comunità locale e anche di persone che hanno lasciato le case che erano veramente molto preoccupate sia per i loro investimenti che per la loro quiete, per la loro serenità. Questa è già una carta molto interessante. viene dal periodo territoriale di coordinamento provinciale della carta del dissesto. La carta del dissesto rappresenta con le macchie rosse le frane active e con le macchie arancioni le frane crescenti. Quindi le aree ad elevato rischio, diciamo, a medio ed elevato rischio geologico. Vedete che queste macchie verdi sono le aree interessanti dalle opere del progetto. quindi i polli verdi sono le nove pale. Questo rettangolone verde è l'area della sottostazione. L'area della sottostazione è l'area in cui viene trasformata l'energia prodotta dalle pale degli aerogeneratori e viene convertita e scabbiata con la rete che passa di lì. Quell'area è grande più o meno come un campo da calcio. È circa 8000 m2 e se vedete è posizionata pochi decenni di metri dal compresso franoso sia al Timo Quiescente che il punto verso Porcigatone di Borbataro, verso sud. Mentre anche nella parte superiore vediamo che c'è anche lì un esteso movimento franoso cartografato dalla cartografia del canto territoriale di coordinamento provinciale che punta verso la Varnoveglia. Non ci sono soltanto le opere relative alle pale e alla sottostazione di scambio dell'energia elettrica perché ci sono anche tutti gli allargamenti stradali. Questa qua è la sua regulazione per la strada forestale ma ancora vedete che tutte queste linee rosse sono le strade forestali che dovrebbero essere a detto del progetto adeguate. Ora adeguamento secondo noi è quanto meno l'offimismo, nel senso che un conto è adeguare una strada che è già una strada asfaltata eccetera. Quelle sono tutte spiste che sono di 2 metri, 2 metri e 3 metri di larghezza. Vedremo adesso quali saranno le sezioni stradali. Questa è la sezione stradale tipo riportata dal progetto che prevede una carreggiata di circa 4 metri di larghezza che però con la cunetta e con i due rilevati, con la cunetta si arriva a 4 metri al metro e con i rilevati sia a Valde che a Monte, dato che sono rilevati stradali che devono avere una grandissima portanza per poter permettere il passaggio dei bici con i pezzi delle paleodiche, dovranno avere rilevati sia a Monte Cavalli che sostengono i versanti e non ho fatto stradare. Quindi con queste rilevate avremo da un minimo di 6 metri di larghezza a un massimo anche di 8. Quindi voi immaginate di allargare delle strade di 2 metri fino ad una larghezza di 6-8 metri per far passare dei bici che devono portare su dei componenti lunghi neanche 52 metri come sono le parti delle etiche, voi vi immaginate altro che adeguamento dovranno portare. Questa è una vista dal Deltatrano, molto interessante dell'area del progetto. Questo qua è la vista di studiare il crinale su cui dovrebbero essere installate le nove pale. Vedete che quasi le strade forestali nemmeno si vedono. Le aree più scure sono anche molto interessanti perché sono delle pinete di rimboschimento, quindi sono state pinete fatte circa 40 anni fa se non sbaglio, per rimboschire il crinale e per prevenire il disesso idrogeologico. Quindi questo progetto andrà anche in parte a intaccare quelle aree che nei decenni scorsi avevamo cercato di salvaguardare il disesso idrogeologico. Chiaramente la riserva naturale regionale, l'osiglio web dei gradi, è proprio qui sotto, sotto l'area del progetto. Questa è una delle piste forestali che si dovrebbe adeguare, d'accordo? Quindi gli elici dovrebbero passare dei bilici che portano componenti, le pale e le eliche, sono 2,52 m. Nella trasmissione che abbiamo fatto ieri in alto sulla rete locale, che è stata molto interessante, siamo molto soddisfatti di come è andato il confronto Timu tra l'altro, c'è stato detto che probabilmente le eliche con un sistema più moderno verranno trasportate non in orizzontale ma in inclinate. Fatto sta che comunque la viabilità verrà intaccata in modo molto, molto tecnico e quella finita che si vede sullo sfondo chiaramente dovrà essere molto adeguata. Vedete, la strada è l'area a circa 2 metri, nei punti più larghi forse arriveranno a 2,3 metri. però vedete che da adeguarci veramente tanto su dei primi anni che sono dedicati. Queste sono le pale più piccole che stanno portando su proprio in questi giorni, questa foto è di lunedì scopo, di lunedì di questa settimana, sono le pale che stanno andando a 0, stanno passando per la strada del Valeto. Anche qua abbiamo detto che adegueremo la strada, la faremo di mentale di 3,5-4 metri, alle prime piogge già ci sono i primi smottamenti, come vedete questa foto di lunedì, fresca fresca. Questa qua è la strada che va su a 0, vedete, strada all'area a 4 metri vedete che non è assolutamente 4 metri, sono i punti in cui arriva a 6-7 metri per appena lì. Queste sono le ruspe che stanno lavorando e chiaramente voi vedete che... e sono pale più piccole di quelli di un progetto. Andiamo avanti, si vedono qua altre foto, chiaramente c'è quella di dispositiva e questi chiaramente sono le rilevanti che vanno fatte. immaginate quelle diapositive che vi ho fatto vedere prima con la copertura avvustiva, verrà una cosa di questo tipo, le pale non saranno così fitte ma saranno molto più alte, perché questo è un parte olico con pale alte circa 60 metri, quelle pale che sono di progetto sono 150, quindi più del doppio di queste che stiamo vedendo. Anche questi sbancamenti sono per pale molto più piccole rispetto a quelle di progetto. Voi immaginatevi su un crinale così delicato a andare a fare delle opere di questo tipo. Andando avanti chiaramente ci saranno anche danni alla rifauna, considerate che forse ci sono persone più qualificate che dovete parlare di danni alla rifauna, però vi basti dire, correggetemi se sbaglio, che il Passo della Santa Donna è uno dei corridoi migratori ed è stato interditto alla caccia proprio per consentire la migrazione sicura della rifauna. Anche i cacciatori dicono, ma come? Cioè noi non ci possiamo cacciare e ci si possono montare nove palle da 150 metri su un passo interessato dalla migrazione della rifauna. Anche questo è un punto sul cui rifetto. Queste sono foto delle tabelle proprio opposte in corrispondente del passo, proprio in corrispondente della vittoria di Progetto. Questa è la foto dottorale della Varnoveglia. Chiaramente anche la Varnoveglia è il contenale della Valbuona interessata da cammini storici come ad esempio la via di Gabali, che è una via molto importante che possiamo considerare una sorta di variante della via Francigena. che è stata interessante da importanti progetti ultimamente e che è molto frequentata. In questi anni veramente tante manifestazioni si stanno spostando dalla via Francigena alla via di Gabali perché è una via probabilmente più interessante dal punto di vista naturalistico e dal punto di vista paesaggistico. E quindi è una risorsa per il territorio che mettendoci in mezzo uno sbarramento di 9 pare di 9 metroni da 150 metri probabilmente qualche impatto sul turismo potremmo averlo anche dal prossimo punto di vista. Di recente è stata fatta anche la carta dei sentieri di Borgotaro e Gracietto in collaborazione con il CAI che ha cartografato tutti i sentieri di quella zona che collegano anche la via degli abati con l'osidi di Borgotaro. Perché tutto questo, probabilmente i soldi sono una buona fetta della ragione generale. In senso che l'investimento iniziale è calcolato dall'azienda in 52 milioni di euro e però i ricardi in vent'anni dalla vendita dell'energia sia dalla vendita al costo di mercato sia dal prezzo incentivato è previsto in 147 milioni di euro in vent'anni. Quindi diciamo che è previsto un business molto interessante. Sarà davvero efficienti? Cioè noi non ci siamo limitati a vedere gli impatti che probabilmente saranno molto importanti sulla popolazione ma ci siamo anche posti il problema di quanto sarà efficiente l'impatto. Perché chiaramente tutto va valutato nel rapporto costi benefici. cioè costi ambientali, costi sociali per la popolazione benefici dal punto di vista energetico e forse anche di altro tipo. Questa adesso è una foto classica del passo della capelletta delle quarta palle del pareto. Una funziona, tre sono ferme. E anche da quel punto di vista ci siamo chiesti com'era possibile che energia che ci viene raccontata che viene prodotta in quantità copiose poi dopo sul territorio tante volte questi riscontri non si hanno. Da anni, no? Da anni. Da anni. Da anni. Quindi siamo andati un po' nel dettaglio con la collaborazione di ingegneri che sono supporto del comitato siamo andati a valutare proprio il tipo di scheda tecnica della palla che abbiamo preso. Sono palle molto grandi, di grande potenza, che funzionano probabilmente molto bene on-shore e off-shore, però sulla costa atlantica dove c'è un vento molto intenso che è prevalentemente costante e unidirezionale. Considerate che queste pale funzionano a pieno regime da velocità di vento che va da 13,5 metri al secondo in su. Cioè quella che viene chiamata velocità di riferimento è 13,5 metri al secondo. Questa è la curva di potenza, ve lo dico molto velocemente, che dimostra che fino a 3,5 metri al secondo di vento la palla neanche si muove, neanche lo sente dentro. Da 3,5 metri al secondo di velocità fino a 13,5 la palla prende spinta. Da 13,5 metri al secondo in poi di velocità la palla funziona veramente alla piena potenza nominale. Cioè la palla è pensata per venti veramente intensi. Scusate, interrompo un attimo velocemente perché questa cosa del vento è molto importante. La regione stessa nel suo piano per l'energia ha indicato l'energia eolica come secondaria rispetto ad altri tipi di energia perché tutti gli studi comunque indicano il crinale alpeninico dell'Immiga Romagna comunque come non particolarmente produttivo dal punto di vista dei venti. Questo perché? Cioè che chiaramente in alpenino ci sono delle conformazioni anche circolari di alcune parti. è vero che si generano dei venti, però sono molto incostanti e soprattutto provevano da direzioni diverse. Sono comunque rare le giornate di venti di una certa portata. Parli di questa dimensione, è molto importante capire perché ad esempio nel comitato ci sono molte persone che sono prodotte con l'energia eolica. Tutti quanti comunque cerchiamo di guardare con attenzione tutte le possibilità di produzione di energia alternativa perché il problema è importante, importantissimo. però c'è eolico eolico. C'è una frase molto importante che diciamo per far capire alle persone che ci dicono quando noi spieghiamo il progetto ci dicono tutti, soprattutto dalla pianura della città, secondo il concetto di not in my backyard, no? Cioè, bello, basta che non sia nel mio cortile, con la solita eolica. Ci viene detto, ma io sono favorevole all'eolico? Allora noi rispondiamo, anch'io sono favorevole all'energia solare, ai pannelli solari, se però mi viene a dire che la Torre di Pisa è ben esposta e quindi sarebbe adatta per installare i pannelli solari, io ti rispondo, ti rendi conto? Cioè, il concetto che dobbiamo far capire è questo. Queste pali hanno dei pesi che sono asnovi in termini di tonnellate. Non pensiate che si mettono in moto da sole, ad esempio. Cioè, il vento non è sufficiente per attivare. L'energia che consumano, e tutte le tabelle ce le indicano, ma non vi annoiamo con tutti i dettagli tecnici, è importante capire il concetto. Per mettersi in moto consumano dell'energia. Per riposizionarsi rispetto al vento, e questo in appennino significa ogni qualche minuto, perché il vento cambia continuamente in direzione, consumano energia. E in alcune fasi, soprattutto con i cambi di vento, altro problema del vento in appennino, i continui cambi di intensità, per mantenere la velocità vanno a consumare energia. Ci sono dei dati molto interessanti che emergono, ci sono alcuni parti olici che hanno dei periodi molto lunghi in cui le pari consumano molto di più di quello che producono. Perché attenzione, le pari olici, soprattutto di queste dimensioni, consumano energia. Quindi, se il progetto è sbagliato per dimensionamento e posizionamento, può dare dei risultati che sono surreali, come quelli che noi siamo andati a misurare. Scusate se ho interrotto, ma è molto importante concentrarsi su questo. Non ho capito in che senso consumano l'energia elettrica. Hanno un assorbimento elettrico. Energia elettrica. Energia elettrica perché il motore le mette in moto. Energia elettrica perché il motore si possa girare. Stiamo parlando di decine di tonnellate. Per sostenere la parte dell'elica ci sono quattro motori che permettono l'allineamento della pala per il vento che c'è quel giorno. E un conto è se il vento è costante, ma ne abbiamo delle raffiche molto discontinue. Raffiche che fanno girare molto bene gli anemometri, ma che fanno girare molto bene queste pali. Considerate che per fare tutti questi dati sulla produttività, che comunque non è dimostrata la produttività, se lo facciamo vedere per un secondo, hanno usato due anemometri. Uno che era stato posizionato qualche anno fa per un progetto diverso, sempre però nell'area di progetto, alto 30 metri e l'altro alto 55 metri. D'accordo? Quindi due anemometri, cioè diciamo due torri anemometri che sono tanti. Uno di 30 e l'altro di 55. Mentre invece il palco avrà un'altezza media al centro delle pale di circa 100 metri. D'accordo? Su un grinale lungo 3 km. Quindi su un grinale lungo 3 km con un'altezza di vento media che dovranno prendere 100 metri, hanno dei dati soltanto sull'altezza di 30 e 55 metri. E da queste due altezze hanno ricavato poi tutti i dati sulla produttività. Dati sulla produttività che vanno verificati, non perché noi vogliamo fargli dei pulci al bilancio aziendale, ma perché la normativa regionale dal 51 del 2011 dice voi potete fargli parchi eolici anche in zona agricola e in zona boschiva, però dovete dimostrare che sia veramente produttiva, che non sia soltanto una speculazione per prendere gli incentivi. Quindi va verificato che ci siano, dalla normativa regionale, almeno 1800 ore di funzionamento alla piena potenza nominale all'anno. La norma in questo è molto quella. Dice se è possibile costruire parchi eolici nelle aree agricole nelle quali impianti risultano di elevate efficienze in termini di alta produttività specifica definita come numero di ore all'anno di funzionamento alla piena potenza nominale. Comunque non infiori a 1800 ore all'anno. 1800 ore all'anno non so neanche tanto, la regione non è che chieda tantissimo, perché se uno fa diviso 24, quindi diviso 24 ore al giorno, 1800 ore all'anno sono 75 giorni all'anno di funzionamento alla piena potenza nominale, quindi circa un giorno su cinque. Quindi la regione non è neanche così cattiva nel chiedere se tu mi vai a intaccare una zona agricola o una zona un po' schiva, dimostrami almeno che sia abbastanza efficiente. Noi abbiamo fatto questo, cerco di dirvelo in un minuto neanche. Abbiamo ricostruito dei dati loro, dei dati che hanno fomento loro, sulla produttività delle varie palle, quanto produrranno alle varie velocità di vento. Questa è la velocità del vento. In questa parte dei grafici ci sono le ore di vento alla bassa velocità. Quindi in questa parte, sotto i 32 gradi al secondo, quindi la palla net inizia a funzionare per queste ore di vento qua. Queste ore di vento qua invece la palla inizia a funzionare da 3,5 metri al secondo fino a 3,5 metri al secondo. La parte buona di vento qual'è? E' quella tutta alla destra del grafico. Quindi questa parte qua. E vedete che di ora all'anno di quel vento giusto per far girare la piena potenza nominale ce n'è veramente pochissimo. Quanto poco? Qua abbiamo ingrattito quello spicchietto di grafico, cioè quello in cui la palla funziona la piena potenza nominale. Qui ci sono dati loro e non sono dati nostri. li abbiamo soltanto messi in un grafico. Sono una mecca per ogni palla di circa 458 ore all'anno di funzionamento alla piena potenza nominale che diviso per 24 ore al giorno fa 19 giorni all'anno. Cioè queste palla, la loro piena potenza nominale funzioneranno circa 19 giorni all'anno. Vuol dire circa un giorno su 20 all'anno. D'accordo. Poi cosa succede? Che questo qua è un grafico che assolutamente non provate neanche a leggere. Fidatemi. Se volete vi mandiamo dei site. Se ci lasciate il vostro diritto mail. Sono tutte le palla. Abbiamo un grafico di dati che hanno dato i proponenti. Cioè i dati teorici ricavati sugli anemometri. E questa qua è la palla media. Cioè che hanno fatto la media di tutte le positività di ogni palla. E sono appunto quelle 458 ore che sono più o meno equivalenti a un giorno su 20 all'anno. D'accordo? E non è un dato sorprendente. Perché la regione stessa ultimamente ci sta segnalando proprio che sta rilevando questa incongruenza. Cioè ha ribadito anche ad esempio l'assessore dell'ambiente Freda l'ha ribadito in un articolo e ha ricordato alle aziende che l'interpretazione delle ore di vento è quella della piena potenza nominale quando tutte le aziende presentano dei piani ore che sono basati su un calcolo che chiamano delle ore equivalenti. Cioè significa che qualsiasi tipo di vento e qualsiasi tipo di intensità viene messo nel calderolo del calcolo per dire ci sono 1800 ore di vento che fanno girare un oggettino di questa dimensione. E loro calcolano nel calcolo tutto al dentro anche queste ore qua chiaramente perché in quelle ore in effetti producono un po' di energia. Ma in questa parte qua producono energia anche grazie a quella che assorbono dalla rete. Però quella che assorbono dalla rete chiaramente la pagano a prezzo di mercato. Quello che rivendono la pagano a prezzo incentivato. Quindi più che un bilancio energetico diciamo che loro hanno un bilancio economico. Il GSE, scusate, ci dice, il GSE sapete che è l'ente che gestisce appunto i finanziamenti e gli incentivi per chi produce attraverso energia alternativa. Ci dice infatti che pur avendo ovviamente presentato tutte le aziende che hanno i parchi eorici in funzione in questo momento e che quindi danno già uno storico, ovviamente tutti hanno dichiarato dalle 1800 ore alle 2000 circa. L'ha presentato il progetto. Ma la media di produzione su un finale peninimale di Emilia Romagna in questo momento è di 1000 ore. Quindi chiaramente in questo momento l'ente regione si sta preoccupando di un'incongruenza molto grossa tra i dati che sono stati promessi e i dati dell'effettiva produttività di queste palle a compensazione diciamo di un danno paesaggistico e ambientale che non vede invece dall'altra parte una produzione sufficiente. Quindi è un dato che è più o meno quello a cui viviamo noi. Cioè quei parchi che stanno già funzionando sul territorio regionale nello storico evidenziano che non stanno producendo quelle 2000 ore all'anno ma stanno producendo più o meno 1000 ore all'anno. E quelli di questa dimensione c'è un altro parco da 120 mesi perché le 150 ancora non le abbiamo viste in funzione che infatti sta dando dei dati di 400 ore di produttività. molto preoccupanti perché appunto noi abbiamo rilevato che effettivamente aumentando la dimensione delle palle si abbassa fortemente la produttività proprio per il problema peso, messo in moto, autoconsumo e per il posizionamento. Diciamo che i dati degli animometri che girano a qualsiasi alito di vento probabilmente sono riportati crediamo noi un po' in modo molto ottimistico come dati di produttività teotica. Quindi se la regione chiede 1800 ore di funzionamento alla prima potenza nominale noi rileviamo che la pala media funzionerà circa un quarto di quello che richiede la regione. Andando avanti, noi siamo arrivati più o meno alle conclusioni da cui erano arrivati probabilmente da millenni i nostri antenati nel senso che impianti olici da pennino di muline a vento non ce li erano non probabilmente perché non conoscesse la tecnologia ma probabilmente perché tutto questo vento per farlo girare non ce li erano e nel medioevo probabilmente non ci erano gli incentivi statali per far girare delle palle da cui l'ha venuto. Considerate che questo tipo di tecnologia, questo tipo di opale che ci sono in Danimarca e in Olanda funzionano invece sulle 2500 ore all'anno alla piena potenza nominale quindi ci sono dati completamente diversi da quelli che avremo dalle nostre parti. Il catalogo della ditta che noi abbiamo utilizzato, quindi non abbiamo rielaborato tanti notti, abbiamo utilizzato il catalogo della ditta per calcolare i dati della produttività le chiama infatti in copertina palle offshore perché sono delle palle che sono state progettate per essere installate su piattaforme marine cioè su piattaforme a largo della costa in zone dove ci sono dei venti marini costanti quindi a questa dimensione sono state tre liste per tutt'alti elementi rispetto al territorio montano. Considerate anche che la regione in quelle 46 osservazioni che ha fatto a maggio dell'anno scorso al primo progetto quando le palle erano considerate ancora di tre in una delle 46 osservazioni chiede proprio ma siete sicuri, io ve l'ho parato, insomma la domanda è la stessa se volete ce l'abbiamo parato, siete sicuri che avete scelto il modello di palla giusta? Non potete provare a fare delle valutazioni su anche altri tipi di modelli di palla perché il vento che c'è dai vostri dati non sembra conduente con quello che sarebbe la produttività di quel modello di palla. Per chi è la ditta? La ditta? Allora si chiama società che produce? La società si chiama Eonica Parmense che ha il 75% la capitale svizzera, d'accordo? quindi sono società finanziaria in Svizzera che hanno la quindiquidità poi i soldi di chi siano veramente... non lo possiamo saperlo e il 25% invece sono i soci privati prevalentemente locali quindi prevalentemente la politica proprio ieri è stato sequestrato un miliardo e 300 milioni di milioni per i pari di proprietà della maffia a un magnate del leonico Sì, lo sappiamo bene Io fino a che non so nome, cognome, indirizzo io credo che ci sia veramente da sospettare e in generale sospetto che dietro imprese di queste dimensioni, di questi costi, di questione e soprattutto con questa scarsissima attenzione all'impatto sociale sociale ci possa essere qualche cosa che vada accuratamente passato al setaccio e che venga pubblicizzato in modo chiaro se no non si devono lavorare diciamo, andiamo tutti noi ma ci andiamo a incatenare diciamo, va così Allora, esiste il principio di presoluzione di nocente sull'eolico sull'eolico anche proprio sudditi che stanno lavorando sul nostro territorio che hanno tenuto concessioni in questo periodo o fuori dal parete o torna eccetera ce ne sono alcune che sono inquisite attualmente Quindi non abbiamo paura a dire che la persona restata ieri c'entra con entrambi gli impianti posizionati i grossi impianti che vorrebbero essere posizionati nel parmese non abbiamo paura a dirlo perché i dati sono inquisite, magari ne sono qui però se sono stati sequestrati ho capito, però il concetto è solo questo Allora, se uno investe in modo privato è presunto innocente fino a che non si dimostra la solubilezza ma è il principio che qualcuno non vuole mai passare ma che per me è la falissiana che è vicino ai soldi pubblici sia solo chi è trasparentemente e al di là degli dubbio pubblico se qualcuno ha delle opere dai soldi pubblici ci sta lontano fino a che quelle ombre non sono fugate punto non fino a che uno non è colpevole passato il giudicato che ci vogliono 15 anni ma anche il Capone era innocente fino a che hanno fatto il giudicato perché ci sono uno di 30 anni ma è il Capone è il principio cioè bisogna essere chiari su questo chiedo scusa no no siamo in linea ormai ne abbiamo viste troppo una domandina c'è una relazione con il parco orico della cinta una relazione di questo tipo cioè se la società interessata è collegata con quella non ce l'abbiamo ancora però adesso a breve ci interesseremo probabilmente anche di quello perché stanno saldando fuori cose molto interessanti su questa sorta di possiamo dire l'aggressione al territorio nel senso che nel giro di un anno le pale da quelle quattro di Albaretto nel giro di un anno nel nostro comprensore vuole diventare 50 non sono neanche nostre perché quelle di Albaretto si si tra l'altro sono in territorio d'accordo ma nel giro di un anno potrebbero passare con i progetti che ci sono in cattiera a circa 50 paleoli di varie altezze però dal 0 al 50 l'impatto il peso sul territorio ci sarà abbiamo fatto un'ulteriore cosa anche questo un minuto in cui dopo ci do la parola ad altre persone i comitati spesso vengono visti come quelli che si mettono di traverso tutto che quindi dicono soltanto dei no quindi abbiamo cercato di fare uno sforzo in più il problema non è noi siamo tutti a favore delle fonti rinnovabili delle produzione di energia da fonti rinnovabili bisogna dire però progetto per progetto noi non abbiamo un problema di fonti rinnovabili se guardate il fabbisogno il terrestre è questo pallino qua il fabbisogno di energia globale è questo pallino soltanto l'energia solare incidente sul nostro pianeta è circa 1800 volte il fabbisogno di energia elettrica per l'intero pianeta più c'è l'idroelettrico le olighe eccetera questo cosa vuol dire? che c'è un problema di sfruttamento quindi di sfruttare tutta questa energia che già abbiamo intorno nel modo più adeguato abbiamo quindi cercato di capire se l'obiettivo che si è posto all'Unione Europea ancora nel 2020 di aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili del 20% sul nostro comprensor che verrà gravato da questo progetto che dovrebbe essere gravato da questo progetto speriamo di no arriverà con l'obiettivo di produzione del 20% di energia da fonti rinnovabili abbiamo fatto una ricondizione appunto di tutte le fonti di energia già salutate nel nostro comprensor abbiamo preso in considerazione gli otto comuni che saranno tutti intorno all'area del progetto Borgotaro Barche il punto va molto al Vergeto il totale di residenti sono 20.000 un po' più di 20.000 quindi un comprensor è interessante dal punto di vista numerico e abbiamo fatto delle proporzioni molto veloci ma giusto per capire più o meno quanto produce l'obiettivo allora considerate che più o meno per il residenziale ogni persona mediamente consuma 1.000 kWh all'anno d'accordo? quindi abbiamo visto quante sono le produzioni e quanti abitanti residenti sono già autonomi con le fonti già sfruttate questo è il repertorio del fotovoltaico già sfruttato negli otto comuni quindi sono impianti già esistenti e funzionali vi dico direttamente il fatto finale sono più di 3.000 sono stati anche bassi alcune valutazioni che fa bisogno della produttività circa 3.000 le 20.000 abitanti sono già serviti dal fotovoltaico già installati intorno una cosa intanto sorprendente è quella ad esempio dell'itroelettrico uno non ci pensa ma soltanto nelle altre comune abbiamo già 14 centraite elettriche di varie dimensioni di varia natura ma ci sono 14 centraite elettriche la più importante è quella di Bardi che è stata costruita negli anni 30 e che produce questi sono dati dell'Ener Green Power produce circa l'equivalente del fabbisogno di più di 19.000 abitanti d'accordo? e la centrale di Santa Maria del Taro quella di Piemonte perché ce ne sono due a Santa Maria del Taro produce l'equivalente del fabbisogno di circa 4.000 abitanti insomma queste 14 centrali più o meno soddisfano il fabbisogno di circa 30.000 abitanti equivalenti questo vuol dire che siamo già a posto non è proprio così perché 20.000 abitanti consumano per il residenziale circa 20.000 abitanti però poi c'è il fabbisogno anche per l'industria ed artigianale che c'è il fabbisogno elettrico anche per l'illuminazione pubblica quindi abbiamo considerato che di quei 20.000 abitanti equivalenti possiamo aggiungere più o meno questo poi si vuole un piano energetico specifico però per fare un'equivalenza abbastanza veloce possiamo osservare che il carico di abitanti equivalenti per far bisogno industriale e di illuminazione pubblica possiamo far diventare 40 e anche 45.000 considerate l'illuminazione pubblica quindi dovremmo arrivare a un fabbisogno di circa 45.000 abitanti equivalenti per stimare anche il fabbisogno industriale e artigianale e illuminazione pubblica però ci abbiamo anche l'eolico l'eolico soltanto con i due impianti autorizzati che dovrebbero essere installati a breve coprono il fabbisogno di circa 46.000 abitanti equivalenti 40.000 quella della ditta friel delle sette pale sotto al mareto e ovviamente altre 5 pale più piccole e altre 6.000 abitanti quindi abbiamo 3.000 di fotovoltaico 30.000 di idroelettrico 46.000 di eolico circa 80.000 abitanti equivalenti serviti su un comprensorio che abbiamo detto che i equivalenti possiamo considerare i 45.000 per considerare che il fabbisogno che siamo più che autosufficienti non è proprio così perché chiaramente l'itroelettrico l'estate funziona un po' meno il fotovoltaico fa bisogno di vattori però se produciamo un equivalente di circa 80.000 abitanti equivalenti anche le sovrapposizioni quindi quando questi sistemi probabilmente siamo già autosufficienti come energia già prodotta o già autorizzata questo per dire cosa tutta questa cosa non perché sappiamo fare il conto perché abbiamo delle competenze in campo energetico ma per dire che non ci vengano a raccontare che abbiamo bisogno di megaprogetti per essere autosufficienti dal punto di vista dell'energia. Se adesso non producessimo niente dal punto di vista della produzione di energie da fonti rinnovabili ci potrebbe anche stare il discorso facciamo dei medi impianti olici ma dato che abbiamo in parte anche dimostrato che già nel nostro territorio è dato tanto sta già dando tanto per la produzione di energia non ci venga a dire che per forza siamo lì ad aspettare una società a 75% a capitale svizzero che ci fa il valore di venire a produrre energia sul nostro territorio. Presidente. Quella attenzione ideale è la curiosità il contenitore che ci sono del marco e le storie. No, sono quelle autorità perché ci sono state appena autorità del micro-nosporso e dovrebbero partire qua. Per fare il ride e tu per fare il... Sì, esatto. questo cosa vuol dire questo discorso che non dobbiamo più produrre nessun tipo di energia da fonti rinnovabili sul territorio. No. Vuole soltanto dire che adesso possiamo anche permetterci il lusso di puntare sugli impianti medio-piccoli cioè quelli che hanno un impatto ambientale piuttosto contenuto che non abbiamo bisogno di svendere tutto un crinale di impattare sul paesaggio sulla popolazione sulla fauna su tutto l'ecosistema sugli sforzi della gente che cerca di restare in montagna su quelli di intorno in montagna perché di energia produciamo e infatti a vent'anni abbiamo già aumentato. Davide vuole aggiungere qualcosa di una parte del nostro punto? Cito la consigliera mia che vedo presenti in sala che nella sua dichiarazione stampa ci ha dato una dichiarazione per noi molto importante quando ha detto la Regione Emilia Romagna si aveva aggiunto gli obiettivi che erano stati esatto che erano stati posti quindi questo per noi è un altro lato importante quindi prima di procedere con ulteriori devastazioni poi possiamo discutere che anche l'altra sera alla tv locale dove siamo andati a confrontarci c'era anche il sindaco di Bar di Conte che è presente qui a confrontarci con i proponenti e con il comune di Borgotaro tutto il gioco era ma poi alla fine sono così carine ma poi alla fine non me l'hanno così fastidio oppure delle fasi del tipo ma dopo un anno non vi accorgerete quasi più che ci sono perché mi sarete abituati questo lo dice una persona che hanno la casa a 500 metri del turismo poi si è parlato di turismo eolico che è un neologismo che devo approfondire e sul quale ho messo la mia totale ignoranza sui numeri del turismo eolico fra le altre cose qua siamo in tre che facciamo parte anche del comitato oltre al nostro mestiere primario un'attività per noi molto importante c'è anche il guido che si occupa dell'OSI dei girardi del WWF è quella dell'attività di guida ambientale escursionistiche e che su quel territorio particolarmente prezioso sta avendo dei numeri veramente molto interessanti chiaro non stiamo parlando di un turismo che risolverà i problemi della vallata però stiamo parlando di un turissimo lavoro quotidiano da fare giorno per giorno con qualche decina di persone da portare in valle che dorme mangia fa benzina va in una farmacia apprezza il territorio che quando se ne va non ha lasciato traccia della sua presenza in termini di danno se non comunque qualche euro che è rimasto sul territorio e ha dato comunque qualche posto di lavoro non sono mirabili sono piccoli passi che però in questo momento stanno funzionando noi riteniamo che cosa? che la vita in montagna sia comunque abbastanza dura per gli abitanti io misuro gli abitanti della montagna in quelli che ci passano sono l'inverno e l'inverno è lungo l'inverno è duro e le persone in montagna si arrabatano con tre o quattro mestieri per riuscire a rimanere lì con questa stavagine hanno tutti in comune una grande risorsa che è il territorio e che è il paesaggio pian piano ci stanno venendo delle piccole idee per l'intervento e stanno funzionando questo tipo di scelte così grandi così impattanti come minimo sono un cambio di indirizzo molto forte molto violento che non è stato preannunciato in nessun modo questo è quello che ad esempio ho detto anch'io ultimamente è venuta anche Rai3 che ha fatto un servizio nella trasmissione Brontolo di Oliviero Bea sono venuti da me perché io a Noveglia che è una piccola frazione mi occupo di di un'azienda di una ditta che ha sede legale a Bardi e che da lavoro a 17 persone nel campo dell'informatica e della comunicazione quello che noi definiamo le vere aziende delle green economy cioè quelle che non impattano in nessun modo e producono solo comunque stipendi 17 stipendi in un territorio come Bardi sono molto importanti noi per anni perché abbiamo costituito una forma di piccolo comitato informale che ha partito da Andrea Contremoli penso che lo conosciate tutti perché spesso è sui giornali ex presidente di IBM e ora AD di Dallare Automobili e ogni volta che riuscivamo a portare su una persona o una famiglia ci avvertivamo ci telefonavamo con tutte le persone che partecipavano a questo progetto e per noi era un festeggiare abbiamo fatto rimanere una famiglia che se ne sarebbe andata abbiamo portato su abbiamo portato su una famiglia che si ferma qui chiaramente con la mogia con un po' dei figli per la patria chi aveva bambini valeva di più ecco questo però ad esempio quest'anno lo dico spesso noi abbiamo posto al sindaco Conti un problema che credo che non lo abbia preoccupato il miglior problema che gli si poteva porre quando gli abbiamo chiesto di darci il secondo pulmino a Noveglia nella piccola frazione cioè il secondo pulmino dei bambini in un territorio che vede solo lo spopolamento in cui noi contavamo ogni anno quanti di meno eravamo capite che per noi è veramente un cambio di passo concreto l'altra sera durante la trasmissione la cosa che abbiamo voluto fare capire a quella parte di politica che non ha voluto svolgere il suo ruolo di contrapeso di controbilanciamento delle normali esigenze di imprenditori che vanno a cercare di fare forse speculazione ma chiamiamolo business un'azienda normale che cerchi di trarre profitto e di trarlo forse a fondo però la politica che deve tutelare anche le esigenze dei cittadini il mio aspetto è che dica piano azienda allora tu vuoi fare una cosa di queste dimensioni perché a te interessa quella dimensione quella di produttività quei certificati verdi ti interessa quel tipo di azione economica ma io devo tutelare comunque prima di tutto la salute gli interessi dei cittadini il valore immobiliare delle loro case non è una stupidaggine poi voglio passare la parola anche a Gigi Cavalli che ha seguito questo aspetto però mettetevi nei panni di chi a un certo punto sa che dal momento in cui questo progetto va avanti la sua casa automaticamente ha perso il 50% del valore dormireste quindi è questo che mi piace ma soprattutto la preoccupazione è anche di fronte alla perdita del valore ma chi la vende più una casa sotto a un ecomostro del genere uno non ha più la possibilità di dire posso vendere la mia casa nel momento in cui ho una difficoltà ho un'esigenza devo spostarmi qualsiasi cosa non hai più questo tipo di libertà e noi a un certo punto gli abbiamo detto voi avete deciso di sacrificare una fetta della popolazione però c'è un'azione che permettetemi termine è molto sporca perché tra i dati mancava un dato importante cioè questo impianto è collocato su un confine con il comune di Bari cioè il comune di Borgotaro ha deciso di fare questo impianto sulla pelle anche di una popolazione che stava dall'altra parte quando noi gli abbiamo detto ma la gente che ha comprato casa e che non sapeva quello che stava per succedere loro ci hanno detto ah, devate informarvi e informarvi era nel nostro programma elettorale allora intanto buona parte di quella popolazione non aveva neanche la possibilità con il voto di influire su quella decisione perché erano altri cittadini che stavano votando rispetto a quella decisione e allo stesso tempo comunque anche proprio la scorrettezza poi di non apportarsi in nessun modo a un comune che stava dall'altra parte il comune di Bari non lo sapeva cioè tenete conto che alle prime osservazioni le prime osservazioni del progetto da tre pali iniziale sono scadute senza che quasi nessuno di noi lo sapesse solo Guido e Poti all'ultimo giorno sono riusciti a presentare a gennaio dell'anno scorso a presentare delle osservazioni quindi di questo progetto assolutamente non se ne sapeva nulla il primo dibattito pubblico è stato fatto quattro mesi dopo cioè a maggio sì quattro mesi dopo sono scadute del comune il primo dibattito ok su questo progetto di tre pali che noi abbiamo capito benissimo che comunque quando è stato presentato il progetto da tre pali ne avevano già in testa nove e ce l'ha detto anche la Presidente ce l'hanno detto scudoratamente ce l'hanno detto che nel 2007 hanno fatto una riunione con la Presidente di Borgotaro per discutere appunto del progetto ha detto in trasmissione e più o meno la logica tattica era ne presentiamo tre perché tre possono passare una volta che ci hanno provato tre e le abbiamo installate secondo la logica che ha già funzionato di dire quel territorio è già compromesso allora a questo punto altre pali è meglio farle lì invece che in un altro territorio ecco puntavano su questo tipo di tattica perché appunto sicuramente in altri territori così ha funzionato quindi proponevano tre pali per poi provare a infilare ma noi abbiamo visto le date dei contratti d'affitto che sono stati stipulati con alcuni proprietari in zone non so nella zona della Noma Pala il contratto d'affitto è stato fatto prima di quando è stato presentato il progetto da tre pali quindi insomma mi sembra anche abbastanza evidente come tipo di operazione quindi quello che noi abbiamo detto è che hanno deciso di sacrificare una parte della cittadinanza non hanno fatto i conti rispetto ad altri impianti che comunque queste erano delle zone molto abitate e soprattutto con delle attività facciamo un esempio molto rapido la Valbrona credo che sia Gigi la zona che ha più agriturismi di domenicità e più oltre gli agriturismi del breakfast e gli agriturismi sono malattie cioè stiamo parlando di questa zona qua stiamo parlando di questa zona di cui il 90% sono tutte le persone venute da fuori a divertire nel nostro territorio Dice due parole Gigi Cavalli che è esperto nel settore immobiliare delle nostre varie peniniche e che anche anche blogger molto seguito come diciamo opinionista scusate ho una curiosità molto importante il grosso delle energie elettriche in Italia da quale sistema è prodotto? è prodotto da nucleare e da carbone infatti la parliamo la parliamo la parliamo la parliamo la parliamo si tratta di valutare progetto per progetto quello che abbiamo cercato adesso è la facciamità del diario il discorso è questo che su altri tipi di progetto non ci siamo neanche composti però bisogna valutarlo perché non è che un problema si risolva non solo al giorno con un solo progetto ci sono progetti che vanno in quella direzione in modo sostenibile ma la produzione di energia pulita non è sempre sostenibile a quello perché pale di microeoli da 30-40 metri sono una cosa un pale da 150 metri non sono progetti neanche imparabili perché tante persone che non hanno preso in esame questo progetto che non hanno visto il fotovontaggio eccetera dicono quello è un parco eolico non dicono un parco eolico che è probabilmente uno scendio del nostro verde prezioso che è il territorio che è il tessuto sociale che è il territorio che è il territorio che è il territorio da 150 case in vendita in tutte queste località da una stima che ho fatto anche sul campo con quella del passo della Cappelletta quindi ci sono già quattro pale c'è una piccola frazione che ha circa un chilometro in linea d'aria quindi ha già un chilometro in linea d'aria quando va una sola parte perché sul Cappelletta se ne sono quattro non gira una sola quando ne gira una sola a un chilometro ha il ronzio 24 ore su 24 quindi io lì avevo due case in vendita in sei anni sono state vendute 200 case quelle di Casarelli sono ancora lì ma sono ancora lì perché tra l'altro sono in un posto fantastico c'è un paesino di 20 case siamo a 950 metri di altezza c'è tutta la vallata aperta davanti le vendono al 50% di quello che dovrebbero costare e non si vendono non si vendono perché? allora il nostro mercato intanto è 80% Lombardia quindi Milano e dintorni e 20% estero quindi Olanda e Belgio è il nostro mercato ecco eh quando io porto delle persone sul posto e sentono rumore che poi sia sicuramente un'energia pulita ci si va bene però vanno di vedere un'altra e quindi se ne vanno perché c'è il ronzio 24 ore su 24 e ne funziona una sola non quattro ma a un chilometro non c'è un quarto della potenza di quelle e quella è la metà anche come dimensione quindi ehm ad onore del nero che quello che è successo lì posso immaginare in una zona ancora più popolata che è Poi Cigatone che è la Lannoveglia ehm e poi di là cosa accadrà anche perché in là c'è proprio una concentrazione turistica di vita del breakfast di agriturismi di gente che per anni ha investito centinaia di mille euro per cambiare vita perché comunque si sono tutti trasferiti e fanno attività qua eh da loro immediatamente io ho venduto il territorio per vent'anni per quello che era quindi sano adesso mi ritrovo che non è più sano cioè è sano sotto l'aspetto diciamo dell'energia pulita non è più sano dal punto di vista della vita allora io ieri eh per farla ancora breve ho scritto le osservazioni che farò porterò domani mattina in provincia che sono le osservazioni che ognuno di noi può fare eh a questo progetto ho voluto concentrarle in venti righe perché avevo detto se no non me le leggo no? concentrato in venti righe ho fatto la storia di vent'anni e di quello che accadrà nei prossimi vent'anni nel caso che spesso accadesse ve le letto e chiudo allora premettendo che non siamo quindi questa è indirizzata alla provincia eh come valutazione di fatto ambientale quindi premettendo che non siamo è il plurale perché scrivo per la società in cui lavoro quindi io e io sono premettendo che non siamo contro la produzione di energia eolica ma per sì contraria di impianti industriali eolici di proporzioni gigantesche e posizionati in luoghi non appropriati avendo preso visione del progetto della società eolica parmese SRL viste le dimensioni e il numero di torri siamo contrari a questa realizzazione in quanti danni economici che un simile impianto provocherete alla già difficile economia della Valtaro sarebbero disastrosi se ciò venisse realizzato sarebbe un'ulteriore sconfitta per quei cittadini che in passato hanno investito soldi confluto scelte di vita quindi sogni in una vallata come la nostra da professionisti del settore immobiliare radicali sul territorio dal 1960 quindi io l'ho reeditata questa azienda però è dal 1960 che esiste quindi ben consapevoli delle caratteristiche correnti per chi decide di investire nella nostra vallata facciamo presente che già ora visto il termine su internet nelle richieste di rustici e poderi viene specificata se la proprietà è posizionata nelle vicinanze del costruente pale segue risposte al disinteresse anche se sono esposti alla vista delle suddente pale quindi io già ora ricevo delle richieste dove mi dicono ma la casa dov'è? è vicino al costruente quindi c'è già il problema chiedono già dov'è ancora prima di farlo quindi figuriamo che dopo se ci sarà facciamo il noto al presente che il mercato locale almeno quello da noi condotto è indirizzato 80% residenti in Lombardia mentre il restante 20% cittadini esteri Olanda e Bergio l'indotto di queste vendite non è solo indirizzata alla nostra agenzia ma tutto al settore di vertigiano trattandosi crampati e diversi tipici fabbricati di ebra che necessitano quindi di ristrutturazione finiture e arregamento quindi non è solo la mancata vendita e il mio guadagno perché io anziché vendere un prosecatore la venderò a bore quindi alla fine cambierà poco però è tutto l'indotto che c'è dietro la vendita di una casa nel caso si deve ristrutturare quindi ci va dietro dal mobile all'elettricista al caulico alla televisione al letto un altro aspetto da non sottovalutare anzi primario è l'assolutazione dei mobili di circa 50% di quelli posizionati fino a 5 km dalle pale ma potrebbe essere anche peggiorativo in quanto non esiste praticamente mercato per quelli mobili posizionati fino a 1 o 2 km dalle pale l'esperienza venuta alla luce da abitazioni in vendita poste e poste nei pressi di località in case a red di comuni di Alpavento zone interessate da quattro paleoniche poste sul primano nel territorio di Valle del Luce ho finito le frazioni soggette a tale d'apprezzamento sono diverse più precisamente saranno quelle di Porcicatura e San Pietro Castaraccia tutta la ballona nel comune di Lodotaro Prandofendi Neosacchi e Noveglia nel comune di Varte Caboara la strella nei dintorni di Compiano in tutti questi locali dove sono presenti ed in attività oltre una ventina di abiturismo per un breakfast oltre 150 le case vendute tutte seconde case io parlo sempre di seconda casa in questa zona qua sono state vendute in questi diciamo 20 anni 30 anni 150 case dove in alcuni casi gli investimenti effettuati ammuntano diverse centinaia di migliaia di euro come ad esempio costruendo ecco villaggio turistico a case sottane quindi a Porcecatone ad un solo chilometro da Porcecatone in prossimità delle quali quindi stanno facendo un ecco villaggio turistico autosufficente quindi con un mini eolico loro con il con il solare quindi quell'azienda lì sarà totalmente quindi a un chilometro esatto quindi è una cosa turista migliorizzata utilizzata a persone che andranno lì a rilassarsi a passare l'uchello da settimana quindi un senso di essere abbastanza chiaro io è eccellente purtroppo bisogna dire che di assemblee come queste ce ne sono troppe in regione perché una volta è a Piacenza una volta è qui una volta adesso un paio di questi impianti per fortuna sono stati diciamo bocciati dal Taro adesso come vedrà bisogna dire che adesso molte cose da questo c'è una maggiore attenzione agli aspetti di falsificazione proprio dei dati che ti portano a portare come plausibili degli interventi che secondo le norme che ci siamo dati che non sono quelle che avevo sperato comunque ci sono oggi molti sono osservati però rispetto alla questione della produzione di energia io credo che noi su questo un minimo di ragionamento lo dobbiamo fare perché se noi rincorriamo esclusivamente l'idea di produzione non c'è mai limite non c'è non c'è un limite per cui uno dice per questo mi piaceva molto quello schema che avevi fatto su la produzione ai cittadini equivalenti però noi non stiamo ragionando di questo purtroppo noi stiamo ragionando semplicemente di un enorme possibile profitto determinato anche da una grande quantità di contributi pubblici perché se non ci fosse questa storia degli incentivi probabilmente questi imprenditori che non sono nati ieri perché ci investono farebbero realmente questi impianti esclusivamente dove la quantità di vento e le valutazioni in solitato sono mica locali i locali si agganciano lì per lì si trovano sempre sono enormi capitali che si muovono secondo criteri che in questo momento non voglio non voglio trattare però rifarebbero esclusivamente dove il rendimento è certo perché la questione delle ore equivalenti è la questione cardine di tutti gli impianti sull'appellino ora io dico questo che queste sono rincorse che non hanno mai fine perché l'Italia è un paese strabico da questo punto di vista cioè da una parte lamenta crisi cose dall'altra rincorre affannosamente con questi capitali dove si muovono i soldi sporchi puliti è tutto così cioè una cosa è dire questi comuni questi comuni sono sostenuti sostenuti nel creare dei sistemi di produzione locale a servizio dei cittadini chi direbbe di no una cosa di questo genere anche se magari qualche impatto visivo ambientale verrebbe comunque fuori ma qui stiamo parlando di questo qui stiamo parlando di una produzione di energia che va dove va? innanzitutto dobbiamo dire che va sprecata perché in Italia la quantità di energia che viene oggi sprecata è spaventosa cioè è la questione della famosa secchia bucata dove tu continui a buttare acqua e poi si perde e quella che recuperi è una parte ma questi investimenti lo vogliamo fare su questi recuperi qui? cioè se dobbiamo fare un investimento oggi in Italia per questo io dico abbiamo già raggiunto la soglia però non l'abbiamo raggiunta dappertutto sul piano regionale mi manca la parola il piano energetico regionale perché ad esempio sul risparmio l'abbiamo raggiunta perché quella è l'unica cosa sulla quale bisognerebbe lavorare adesso io faccio una cosa un po' diciamo da visionaria però se noi mettessimo questi incentivi sul nel senso che non dipende da me non comando non comanda nessuno però se noi mettessimo questi incentivi su la coibentazione delle abitazioni otterremo un risultato straordinario perché le case non consumerebbero quello che consumano adesso a lavorare lavorerebbero tutti gli artigiani d'Italia le imprese le cose perché poi questi sono lavori che si fanno nel piccolo quindi ci sarebbe diciamo così un movimento che oggi non c'è e le famiglie alla fine sparmerebbero perché quando c'hai la casa co-inventata spendi meno cioè se non cambi l'occhiale nel vedere la questione energetica la vedi solo come produco come produco come produco allora non si finisce più perché poi nella produzione e anche nella produzione italiana è vero che noi la compriamo ma la vendiamo anche qui poi si arriverebbero dei ragionamenti che forse adesso però insomma la questione va vista secondo me così cioè queste sono speculazioni chiamiamole loro nome cioè sono dei privati che arrivano su un territorio e si appropiano fra virgolette di quello che adesso mi viene questa parola anche se non mi piace più usare di quello che comunque è un bene umone perché comunque c'è il crin ci sono i crinali ci sono le cose tutte le cose che avete detto che sono quelle che stanno succedendo dappertutto perché non è un'invenzione ne basta vedere quindi le strade e incassano quantità enormi di denaro forse comunque le incassano 147 milioni si si poi voglio dire lì magari sono meno perché il vento non li rende però quello che la casa stanno a posto così e al territorio cosa rimane? non pagano l'energia? assolutamente no al territorio non rimane niente non rimane niente sono cose così e quindi per questo secondo me poi si stanno muovendo tante cose questa quantità di denaro rende anche aggressive queste ditte per cui quello che è successo a Bardi che lavori lì sul confine e che succede a Contremoli cioè a Contremoli viene fuori un impianto di 16 pali di 150 metri che in alcuni punti è a 12 metri dal confine con la provincia con la regione anzi regione che in quella zona su quel crinale con non posso dire SIC perché c'è con SIC con la ZPS col parco con tutte queste cose non sarebbe autorizzabile sopra i 1200 metri non sarebbero autorizzabili la regione toscana la mette a 12 metri dal crinale cioè la pala in realtà sbalica capito? perché la pala è quindi insomma queste cose veramente sono a mio parere assolutamente inaccettabili e e meno male che insomma i cittadini si stanno muovendo in maniera anche così organizzata se posso dire sarebbe molto bello fare delle reti tra tutti i piatti della regione perché appunto Arnicelli c'è un comitato questi qua quelli del bolognese perché adesso diventa un delirio adesso diventa un delirio però tendenzialmente favorevole era una cosa che secondo me poteva fare parte di un ragionamento in un'Italia meravigliosa in cui tutti ognuno fa il suo però quando arrivano gli speculatori secondo me anche io ero tendenzialmente favorevole e ora sono decisamente contrari a prescindere perché non ce n'è uno di questi media inviati qui che faccia il suo dovere e cioè a sostegno del territorio il turismo il turismo il turismo è odico ma ragazzi ma voglio dire è vero che quando hanno fatto le prime due o tre pale in Italia si è mosso qualche cosa ci sono andati con le scuole per carità questo è verissimo ma viene da sé ma se c'è una parola anche in quella di Andarete è successo i primi sei mesi ma si chiama curiosità ma il turismo è una cosa che ti porta anno dopo anno della gente a vedere delle cose che sono uniche al mondo e queste pale sono uguali dappertutto le stanno mettendo dappertutto o si pensa che i turisti sono tutti dei deficienti e per continuare a pensare così significa veramente non muovere niente oppure ma il turismo è odico ragazzi ma veramente ma io vorrei sapere ma come uno può immaginare una cosa del genere cioè tutti i lavori fatti veramente la via francese la via francese quello della della cisa tratto dal progetto di 67 pagine dell'eolica parmese guardi come liquida no lo lega il numero di righe e cosa c'è scritto sì fruittori dell'opera sì sì ma i fruittori cioè intendiamoci questi impianti non portano un posto di lavoro anche questo ma ha detto nel periodo in cui vengono realizzate ho capito nel periodo in cui vengono realizzate anche la Tirreno Brennero adesso che sarà realizzata nel giardino di casa mia ma per cui c'è un bel sindrome di mimbi molto elevata farà lavorare qualcuno ma dopo cioè non sono lavori quelli quelle sono cose che si muovono così sono pochissimi si muovono in quel modo arrivano con questi megacabio montano e dopo è finita lì eh cioè non è che sia un posto che c'è 10 posti di lavoro perché queste sono sono parte soltanto che raccontano grazie consigliere regionale mio tanto che è stato chiamato in causa chiediamo intervenire al sindaco di parti conti che non è diciamo così un ambientalista è bravissimo io per questo diciamo che vale top vale top nel senso che se si è mosso e si è preoccupato anche lui che è il sindaco di parti cioè di questo tipo tra l'altro il sindaco dell'assessore Moruzzi come ti va diamo la parola alla signora no certo lì certo la mia amarezza con una battuta sono un po' preoccupato perché è la prima volta che sono d'accordo ah sì anche consigliere mio però insomma va bene così no c'è tanta gente e non posso che condividere quello che tecnicamente è già stato detto e anche naturalmente le parole del consigliere sono molto preoccupato sono anche amareggiato perché la sala è piena ed è bellissimo è importante però permetti i marzani avevate mandato anche un invito a sette consigli comunali a trenta consiglieri provinciali no no voglio dire a trenta consiglieri provinciali quindi consiglieri provinciali ce ne sono due ci sono io c'è l'architetto Marzano tra l'altro l'ho invitato perché lui è presidente della quarta commissione ambiente ed energia alternativa quindi io chiederò anche a lui un certo coinvolgimento dei tempi dovuti eccetera io esprimo tutta la preoccupazione dei partigiani ripeto maggio 2012 noi in una pubblica riunione abbiamo abbiamo saputo questo non siamo mai stati incappellati non ci hanno mai chiamato vi assicuro che non c'è nessuna voglia elettorale anzi proprio però dal punto di vista idrogeologico avete già parlato della cartina del PCP non ci niente da aggiungere dal punto di vista socio-economico non c'è molto da aggiungere il turismo insomma al di là ripeto delle difficoltà della popolazione abbiamo investito anche giustamente Gali ha detto loro stanno facendo un lavoro continuo con le guide eccetera che non è importante noi stiamo facendo anche quella fortezza secondo noi anche anche tutto il territorio anche tutta l'immagine della fortezza da qui arriva verrà verrà da leggiare questo io sto pensando soprattutto alla popolazione e all'impatto ambientale però qua si sta coinvolgendo tutto un territorio che sarà ferito ferito e senza parigione non so se mi spiego ecco quindi ripeto è bello vedere tanta gente però avevo piacere anche che ci fossero in realtà anche chi non è anche chi è favorevole voglio dire perché questo è un confronto lo so lo so dico ribadisco senza insistere perché voglio lasciare lo spazio più possibile però ci sono sette consigli speravo c'è chiedo scusa scusa un consigliere comunale scusami consigliere comunale di minoranza se no non c'è nessuno ecco questo cioè la risposta da gente è importante abbiate pazienza però secondo me per una cosa così era importante anche la presenza degli amministratori scusa se insisto su questo l'ho fatto però siamo a parola siamo secondo me anche amministratori di comuni che verranno feriti non che verranno quei voti che verranno feriti dovevano fare essere presenti noi siamo con voi andiamo avanti parteciperemo scusate naturalmente alla conferenza dei servizi abbiamo qui il nostro assessore il dottor Moruzzi che è molto molto preparato e cercheremo di portare le nostre esigenze ecco vedremo quello che succede ma la mia preoccupazione forte resta ecco questo scusate sono un po' pessimista spero spero di sbagliarli ma di fronte a queste cose di fronte al modo di fronte al modo con cui stanno portando avanti certe cose insomma io riesco preoccupato scusate la mia preoccupazione d'accordo la preoccupazione del sito amministratori che quando c'è da eleggere corrono velocemente la telefonata avuta col presidente della provincia noi abbiamo chiesto prima di girare l'invito a tutti se potevano farlo in provincia nel senso che univa tante cose una sede anche istituzionale lui ci ha detto io sono in ferie quella settimana il rituale che mi dica chiesto la riunione presso la nostra sede quindi le riunioni che conduciamo noi e ci ha chiesto lunedì la prossima settimana nel suo rientro dalle ferie di fare un incontro privato ciò nonostante abbiamo chiamato a tutti veramente a tutti l'abbiamo mandato due volte sia prima di Pasqua che dopo Pasqua l'abbiamo rimontrata tutti per essere sicuri che con la Pasqua qualcuno si fosse scontato di questa cosa l'abbiamo mandata tra l'altro a trascenti 15-20 minuti una volta in modo da non essere intercettati dal fintrano di Spagna in modo che non potessero dire che la venue non era arrivata perché l'attività dell'Espagna in realtà vi dico va bene anche così nel senso che gli aspetti tecnici ci sono chi ci vuole sentire ci sente continueremo a muoverci anche nei prossimi giorni a più di venti domenica ad esempio se il gruppo ci assiste facciamo una passeggiata a quattro passi nel vento l'abbiamo chiamata per visitare appunto tutti i nuovi interessati dal vento appunto per portare curiosi, interessati anche i politici e gli amministratori locali a vedere perché ci siamo accorti che anche gli amministratori locali tante volte non per malafede probabilmente hanno abitato in altre cose da fare ma non conoscono nemmeno loro il progetto nel dettaglio la serata che abbiamo fatto l'altra sera parlata di sera su videotaro che direi che è andata molto bene per quanto ci riguarda abbiamo ricevuto poi dei complimenti anche dagli amministratori di maggioranza del Comune di Progetaro questo per dire che probabilmente anche loro qualche dubbio durante l'incontro il dibattito televisivo che è disponibile anche su Youtube gli è venuto prima di passare la parola Luigi Peggi volevo approfondire una cosa non vi nascondiamo senza fare del vittimismo senza fare dei propri dettagli che andrebbero spiegati meglio che ci sono delle forti pressioni comunque su tutte le persone che si stanno occupando di queste cose noi tra le altre cose il Comitato abbiamo deciso di cambiare il nome da Comitato No Eolico abbiamo proprio deciso di chiamarlo Comitato per il ripopolamento delle valli dell'interno del cielo cioè per far capire che il nostro interesse è proprio quello di ripopolare la montagna in tanti modi ma non vi nascondo che non so il titolare della mia ditta è stato chiamato da un costruttore per fargli pressioni perché io smettessi di ci sono continui accessi alla visura camerale della ditta per cui lavoro strani movimenti attorno alle case delle persone del Comitato speriamo di stampa pressioni sulla stampa sono dieci giorni che non esce più il nostro comunicato sulla gazzetta di Parma ne manchiamo uno due giorni telefonate a giornalisti del Tg3 perché non vengono a fare i servizi allora gli interessi in campo sono molto grossi gli investimenti immobiliari molto forti l'altra sera uno dei costruttori socio di Eolica Parmese con noi è stato abbastanza crudo ma ve lo dico velocemente per farvi capire rispetto a quale logica a quale logica di vecchia politica per quanto purtroppo sia molto attuale ma io la chiamo vecchia politica ci sia attorno a questo tipo di cose il costruttore nella sua ingenuità mi diceva allora mi hanno detto che di lavori pubblici grossi io non avrei i politici locali i politici locali mi hanno detto che i grossi lavori pubblici non avrei più fatti perché strade tunnel e le nostre opere non se ne fanno più mi hanno detto di riconvertire la mia ditta per la distruzione di questi impianti di energia alternativa loro mi hanno fatto fare questo cambiamento e adesso questo lavoro me lo devo notare altrimenti io ci vado fino al consiglio dei migliori ok ovviamente registriamo poi una distribuzione di pre-vende del tipo promesse tu ti occuperai della manutenzione tu farai un piccolo lavoro in elettrico per convincere gli affittuari a firmare le varie cose dico un'ultima cosa molto importante poi passo la parola a Luigi scusami Luigi no 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 è un atto molto importante che va capito purtroppo la cacera di televisione non lo siamo riusciti a farlo capire bene e molte delle nostre domande sono state ovviamente tutte la ditta proponente ha chiesto alla provincia che venissero oscurati i documenti sui dati dell'anenometro e sulla redazione del loro ingegnere sull'acustica perché è lì che adesso si sta concentrando ci hanno aiutato perché su 139 documenti di cui alcuni di centinaia di pagine all'inizio mi ha detto oddio non ce la faremo mai a vederli tutti a un certo punto quando ho visto la richiesta di non farci via ho detto grazie ci indicano quelli che devono guardare con maggiore attenzione allora il loro ingegnere sulla redazione acustica dice un sacco di non si sa non è chiaro non si può sapere i dati non sono certi perché stiamo parlando di pale che emettono dati della vita 107 decibel l'una in funzione sapete cosa sono 107 decibel parliamo di 140 decibel per un aeroplano che decolla fate un po' voi ma c'è poi un grosso problema che non approfondiamo perché è molto tecnico legato agli infrasuoni è una cosa che si chiama sindrome da eolico che negli Stati Uniti in Inghilterra nei Paesi Bassi in Francia è accertata e viene allegata nelle documentazioni tant'è che questi incanti sopra i 120 metri non si può più costruire a 4 km e mezzo da una sola abitazione mentre qui le distanze sono completamente diverse e la sindrome da eolico di Stati Uniti non è assolutamente presa in considerazione noi veniamo presi in giro comunque quando portiamo studi di medici dell'ISVE che sono l'associazione medici per l'ambiente che fanno relazioni sulla sindrome da eolico e sui danni per la salute su bambini e anziani noi veniamo proprio sberpeggiati e presi in giro perché tutto ciò che non si vede voi sapete che tanto non esiste gli infrasuoni sono assolutamente non dimostrabili quindi ci tenevo ecco a dirvi tutto quello che si sta muovendo attorno a questo tipo di cose scusami Luigi prego il dottor Luigi mi faccio i contributi per il lavoro che avete fatto e che state facendo avevo due domande da farmi alla prima mi hai già risposto che era sull'impatto acustico mi hai già risposto e alla seconda mi hai già in parte risposto cioè io volevo chiedere l'amministrazione di Borbottaro che mi sembra che sia quella che ci sia assunto una responsabilità enorme storica perché io per esempio non vorrei associare il mio nome se fosse amministratore a una roba del genere che rimane con che scempio nei decenni ecco quindi si sono assunti questa responsabilità di fronte a tutti quindi la loro decisione è definitiva oppure ci sono le possibilità per le nuove sono tutti e su tutti d'accordo anche se il sindaco di Borbottaro mi sembra che abbia anche responsabilità provinciale quindi è una figura il sindaco di Borbottaro è segretario provinciale del partito il partito più grande della provincia quindi diciamo che è una figura importante sul territorio la sede della provincia stai conoscendo anche i travari sapendo che i travari no? la tua carica di Pietro no? brava beh ce ne sono ti disfaccio ancora ce ne sono molti il discorso è questo che l'amministratore comunale di Borbottaro dal punto di vista ufficiale diciamo non ha detto noi siamo favorevolissimi a questo progetto l'ho detto nei fatti mi garanto nel senso che chi passava il comune a Borbottaro si trovava diciamo di fronte alla presentazione la presentazione e si trova alla presentazione di questo progetto c'è una cosa interessante l'abbiamo visto anche un po' nel silenzio che c'è stato in tutti questi mesi cioè la prima volta che ha presentato pubblicamente il progetto nelle prime tre falle è stato quattro mesi dopo che era scaduto il termine per la presentazione però l'altra sera subito Taro martedì sera il sindaco di Borbottaro ha detto c'è la conferenza dei servizi quindi quella sede valuteremo così ad esempio io ho fatto una domanda precisa al sindaco di Borbottaro il comune di Borbottaro presenterà delle osservazioni a questo progetto che è la cosa più normale del mondo cioè che il progetto di una ditta che deve fare business combati con gli interessi del comune a me sembra scientificamente il progetto questa è la mia opinione non è il progetto no cioè che almeno qualcosa a un comune non gli va da avere stiamo parlando di centinaia di pagine con tanti dati che possono essere interpretati in mani molto diversi non mi è stata risposta assolutamente a questa cosa nella tensione della serata perché comunque abbiamo messo molto sotto pressione poi vabbè voi pensate a una tv locale e magari vi viene da sorridere ma tenete conto che noi in montagna riceviamo veramente pochi canali anche sui digitali per est e che è la forma delle montagne quindi la tv locale che insomma mi dotava che è un po' la banda del posto insomma incide molto soprattutto sulla sensazione di accerchiamento l'altra sera è molto sotto tensione perché comunque noi siamo arrivati con questa presentazione per il tecnico e i loro tecnici questi aspetti tecnici che sono fondamentali perché il discorso della produttività del modello di palla che hanno scelto sono dati che richiede la normativa regionale per verificare non è una cosa che ci è venuta in mente a noi su questi dati il loro tecnico che è intervenuto in traversione dopo un intervento quindi va tutto il tempo per rispondere parola per parola non ha risposto cioè è finito l'intervento mi ha spettato la mano mi ha fatto i complimenti fuori dell'elettrica mi ha detto complimenti per i dati che ha dato lui ha fatto la risposta vi stavo dicendo il sindaco di Borgo Taro a un certo punto si è dimenticato che non era dell'azienda c'erano dei momenti in cui nella tensione sembrava veramente un componente dell'azienda per come comunque appoggiava il progetto luisi secondo me ha sottolineato una domanda ma anche poi un comune fa una cosa del genere che è la domanda che noi continuiamo a fare e a cui non riceviamo mai risposta allora qualche risposta ce la siamo date non tutte le possiamo dare pubblicamente perché siamo stati ovviamente più volte minacciati di denunce credo ogni due o tre giorni anche l'altra sera il sindaco se ne è uscito dicendo che il mio padre denunciato perché il mio sorriso è stato insieme a Torno io ho fatto una domanda molto importante che è se potevano escludermi con totale certezza che non c'erano conflitti di interesse tra persone che ad esempio erano proprietari dei terreni e che hanno partecipato a base di decisione analisi di questo progetto è una domanda molto importante infatti chiaramente la mia domanda si basava anche su alcune coincidenze non lo nascondo nelle misure quindi dati pubblici e alla risposta no mi è scappato un sorriso ma davvero il volontario perché insomma e su questo comunque mi è stato detto che questo sorriso e queste domande incinuatorie sarebbero state approfondite in serie legale diciamo che il tipo di clima in cui noi iniziamo ma comunque il sindaco ha detto che entro 10 anni questo palco verrebbe tirato subito no ha detto che ha detto che ha detto che è un interventore verosidio ma chi è che lo smontra io mi chiedo un parco olico magari un micro olico questo lo facciamo ci vogliono ci vogliono 54 milioni per montarlo non so per montarlo scusate mi hanno chiesto però voglio dire che l'hanno allargata non lo so no allora prego io chiedere io era conoscenza quattro anni indietro che questi impianti potevano essere costruiti dagli 800 metri o 700 metri di altitudine in giù non oltre chiedo con il piano energetico regionale è stato modificato è sempre stato così mi fa piacere comunque che dici questa cosa perché in discussione di piano energetico non potete immaginare perché poi bisogna stare con due occhi così i trucchi che stavano passando per superare questa soglia ad esempio se uno aveva un impianto di risalita poteva fare le olico anche sopra i 1200 metri e fra la commissione e l'aula fiorivano le richieste di impianti cioè delle cose in cui veramente però il limite per la regione è 1200 metri questo credo però no questo è rispetto al limite questa limite le pare di 9.150 eh sì perché adesso sono attenti a questa cosa qui 1200 metri tra l'altro sui crinari dove vorrà essere tutelati a prescindere c'è una maggior domanda? sì io chiedevo visto l'amministrazione del comune Bogotà che sta appoggiando praticamente e attivamente questo progetto il comune ha delle compensazioni dal punto di vista economico perché questa è stata molto interessante l'altra sera abbiamo fatto ufficialmente oppure ambientale oppure a livello generale c'è qualcosa è una domanda molto importante allora intanto le compensazioni ambientali che devono ricordare che sono opere di mitigazione cioè dando per scontato che c'è un danno questo dice la legge ci vogliono delle opere che mitighino il danno cioè lo riuscano quindi è molto importante quello che viene fatto allora c'è una soglia che era del pre che mi sembra sia stata abbassata a lungo secondo i nostri documenti ma lo andiamo comunque che ora il Consiglio di Stato ha deciso che debba decidere la conferenza dei servizi regionali come distribuirla perché cosa avveniva in tutta Italia che i comuni andavano una trattativa con le ditte tipo mercato delle barche cioè del tipo chi mi da di più gli do la possibilità di fare un impianto più o meno stava succedendo questo ci sono dei sindaci che sono tramite gli arresti ma ci sono addirittura le gare chi mi offre di più delle compensazioni ambientali chi mi offre di più ve la do quindi si è eletto la decide la conferenza dei servizi regionali che così decide cosa fare con le compensazioni ambientali dicendo una cosa molto importante il Consiglio di Stato non possono essere solo di tipo economico le compensazioni ambientali cioè prima di tutto dovete chiedere alla ditta di fare degli interventi sempre per evitare questo mercanteggiamento perché i comuni attettivamente non li nascondiamo sono alla canna del gas a livello di bilanci io vedo proprio la difficoltà di aiutare i comuni di far tornare i conti anche col fatto di stabilità e quindi i comuni sono a caccia di soldi quindi la politica in questo momento è particolarmente ricattabile questo è importante che ce lo ricordiamo l'altra sera il sindaco di Borgotaro però ci ha detto una cosa per noi molto importante ci fa piacere che sia registrato su Cassetta Cassetta che parlano di Carriere di Borgotaro sono venuti a ritirare e che hanno chiesto speriamo bene perché al giorno tutto ha detto ma noi avendo visto che prete attenzione come di Borgotaro aveva puntato sull'Imu e c'è tutta una tabella che dice che avrebbero preso quasi 400 mila euro all'anno di IMEI ma con il decreto dell'ultimo decreto del governo Monti tutte le aree industriali vengono incandrate direttamente dello Stato e i nomi tornano neanche indietro quindi quei 400 mila euro all'anno su cui puntava il Comune di Borgotaro sono andati a sparire quindi noi l'abbiamo attaccato su questo dicendo ma il Comune di Borgotaro a che può ricevere questo danno? e lui ci ha risposto ma noi abbiamo trattato con la ditta che ci darà un 3% degli utili spontaneamente al Comune di Borgotaro oltre a quelli che sono gestiti nella Conferenza dei Servizi sì oltre a quelli gestiti nella Conferenza dei Servizi che lui comunque vende alla sua popolazione come interi come soldi che tornano al Comune di Borgotaro e non è possibile e non è vero potrebbero anche essere dati al Comune di Borgotaro mi sembra anche abbastanza logico visto che su un primario ci sono due diversanti che alla Conferenza dei Servizi dica alcune opere di mitigazione dovranno essere fatte lì che si passasse sì, però credo adesso non vorrei sbagliare che la quantificazione economica non sia più consentita anche a me risulta così cioè a me risulta che è vietato a me risulta così in quello che prima era un sistema certo in opere, in cose in trasmissione comunque la trasmissione è disponibile anche su Youtube sì, qualcuno me l'ha Daniela me l'ha generato no, mi ha piacere che ci sia Caravelli che è investerato perché noi saranno circa 400 mila euro alle opere in opere sì, denaro prima sono 70-80 mila euro sì, no, però le opere sono direttamente per il comune di Borgotaro 400 mila euro all'anno in opere che lui diceva che si potevano utilizzare in vario modo per l'efficientamento degli agenti di edifici pubblici quello credo che sia possibile per il rifacimento dei murretti stradali della Valgona quello bisogna già più vedere perché non è detto che sia una compensazione per la metà il fatto di rifare una strada una valle per la dire non prendono le compensazioni ambientali sono altre strade l'aeroporto sono sempre state la strada ma purtroppo non cerchiamo più limite ma ovunque grazie prego prego allora siccome questo progetto ha provato di farmi capire in primis dal comune di Borgotaro di Borgotaro ma anche dalla provincia di Tarna ma anche dalla provincia di Tarna si potrebbe presumere che chi riceve dei danni e cioè le frazioni di litrofe possano chiedere in un documento alla provincia e al comune di Borgotaro quelli che sono i danni non è cioè conferenza di servizi non è che vengono provocate le informazioni cioè in conferenza di servizi vengono provocati gli enti quindi come di Borgotaro prendo la comunità montale come di Borgotaro dopo 10 giorni per le osservazioni d'accordo tutti gli abitanti che vogliono esprimere cioè noi abbiamo risposto un modulo che lo stiamo facendo girare in modo che voi la parte generale di conferenza sapiate già che troviate a leggere soltanto le vostre osservazioni noi siamo qui a Parma proprio per chiedere alle associazioni ancora cioè siamo venuti a presentare il progetto perché le associazioni che hanno quasi tutta sede a Parma quelle che ancora non lo conosciamo non si potesse interessare chiaramente noi siamo disperati a chiedere l'appoggio di G.U. per la vera ci sono anche altre parti politiche che ad esempio oggi ci sono arrivati tre comunicati tutti dall'Italia dei Valori Sabrina Freda Regione Paola Zilli consigliere provinciale e Diana Barbati consigliere regionale che comunque hanno preparato dei comunicati stanza presenteranno osservazioni quindi noi stiamo chiedendo anche alla politica di esprimersi tra le altre cose una delle nostre idee a un certo punto anche di fare una lista di tutti i politici a cui abbiamo chiesto di esprimersi e dirgli favorevole o contrario concediamo una settimana di non lo so cioè uno può dire guarda proprio questo progetto non lo conosco però poi vogliamo proprio pubblicare consigliere regionale fede d'Italia favorevole assessore provinciale fede d'Italia contrario noi proprio vogliamo pubblicare questo tipo di lista e costringerli a esprimere perché quello che abbiamo visto da buona parte delle forze critiche è stato i fuggi-fuggi cioè proprio ci editano come la peste alcuni e questo è un'altra dimostrazione sì però insomma noi siamo abbastanza ostinati eh cioè non ci stiamo dormendo la notte siamo abbastanza stanti però insomma no ma ci arrivo al fondo no no il nostro il nostro il nostro grazie e i complimenti per il lavoro che ci sono ci sono persone che si vedranno veramente la vita completamente rovinata questa è la nostra opinione ci viene contestata anche questa mi sembra abbastanza oggettivo come data no no certo se ricordate queste frazioni di cosa dovrebbero avere noi cioè tra queste cose ci andiamo a sinistrare nel senso che i nostri dati ci siamo preparati non abbiamo accettato dei dati al vento per fare degli alarmismi noi ci siamo preparati ci siamo anche fatti aiutare da degli altri tecnici oltre che a noi eh ci sono delle associazioni che firmeranno le osservazioni che loro ci sono altri politici che piano piano magari non ufficialmente ma ci saranno venuti a contattare negli ultimi giorni perchè hanno capito da diverse voci dal dibattito televisivo da intra eccetera che c'è qualcosa di strano in questo progetto e quindi nei prossimi giorni ci saranno i nostri interventi su questa cosa è un po' un peccato perchè era meglio che si informassero un po' prima però non ne avrei troppo tardi nel senso che il progetto è talmente impattante che il pifbing viene ben visto ancora l'avvedimento dell'ultimo momento c'era un intervento da un sacco di giorni allora scusa è che non ti vedono da davanti e quindi a fare l'attenzione che del carico vengo da una donna dal sogno che praticamente ha la stessa problematica e da un paese che sono anche ferme i tradizzi buon condizionati non so per quale problematica chiedevo i proprietari dei terreni dove vedevano portati saranno gente locale perchè hanno firmato non lo dico allora ci sono degli strani movimenti il nocciolo della questione sta nella domanda in cui tu fai perdonami se non ti posso rispondere pubblicamente in modo troppo completo perchè le nostre vite le nostre famiglie i nostri interessi vengono veramente finanziati però vuol dire se io vedo il mio territorio ha un mio territorio allora ti faccio solo degli esempi carte alla mano su cui non posso essere che ne so c'è un imprenditore agricolo da Bergamo che ha comprato 80 ettari tutti in un colpo e in un giorno ha comprato e ha spittato i terreni alla ditta poi io non ti tiro conclusioni perchè non mi posso esporre ti devo dire il dato è questo ci sono dei dati che a noi non tornano assolutamente sul valore degli affitti te lo dico ma dubbio quindi io qui ho delle persone che ricordo i dubbi che ne so 190.000 euro di affitti all'anno dei terreni quando noi sappiamo che i più disgraziati ricevono 800 euro per ogni ettaro vorrebbe dire che abbiamo calcolato 237 ettari interessati a questo progetto a 800 euro al colpo ma non è assolutamente così non abbiamo gli strumenti per esempio per approfondire su da noi i pederini sono 6.000 euro a Enica Parma più un 3.5% sulla produzione ci sono delle strane coincidenze tra rappresentanti politici e proprietari di alcuni terreni ci piacerebbe che qualche giornalista con capacità di inchiesta e strumenti ci chiedesse questi dati inizialmente ma perché mettere dei debiti così grossi sono cose che probabilmente si alterano fuori le visure sono legate al progetto se uno anche su internet può scaricare tutte le visure legate al progetto nel piano di espropi dei terreni quindi se uno vuole non ci sono dati nostri ci sono dati una delle osservazioni che presenteremo è che comunque ci sono degli spropi ci saranno sul progetto per approfondire però insieme al progetto hanno dovuto presentare su richiesta di realizzazione il piano di espropi quindi su internet se uno va sul servizio ambiente quindi la proprietà passa alla società in parte si in parte saranno affitti e in parte saranno proprietà che rendeva proprio le spropi anche per le aree per le strade accessi comunque nel piano di espropi lo scaricate anche dal servizio ambiente della comunità cioè con tutte le visure praticamente con tutta la lista delle visure dei terreni interessati dal progetto non pensavo potesse fare un espropi portato da privato a privato praticamente no è un'opera che se passa viene riconosciuta la pubblica utilità e se passa partono la bomba se passa cioè veramente lo vediamo un po' dappertutto cioè riguarda partono la bomba e i tre metri e mezzo quattro metri che indicano della strada abbiamo visto cos'è la strada di Rebaretto altro che tre metri e mezzo considerate che ci sono i pubblici necessari al casporto della tale perché ci sono dei defatti che sono legati a lungo la qualità lungo la provinciale per il passaggio cioè curve troppo strette che devono essere completamente sbancate cioè ci sono una serie di la pubblicazione finale deve essere fatta una notte molto bene regionale provinciale o prima provinciale e poi a livello di conferenza dei servizi regionale cioè in questo momento stanno per scadere i termini della valutazione di impatto ambientale da parte degli uffici per posti della provincia entro quella data che è indicata il giorno al 12-13 di aprile il 13 aprile e la domenica fanno presentate le osservazioni alla valutazione di impatto ambientale la manifestazione nazionale proprio contro le persone di questi mostri non è purtroppo solo regionale ma è nazionale e il sabato 13 a Orvieto ci sarà una manifestazione nazionale di Italia Nostra proprio contro che ci sono anche che ci sono anche molto prima in altri due giorni è talmente grave che in realtà funziona proprio che è bella anche di suo però l'uscita dei telefonali di protezione è particolarmente importante quindi chiunque possa lascio qui quindi solo questo si Italia Nostra presenterà delle osservazioni per questo progetto e ci portiamo per cioè anche apposeremo di cioccolare i nostri abitati nazionali oggi mi ha piuttosto del nazionale per sollecitare appunto la partecipazione alla persona che ci ha fatto per una domanda scusate però ci mettono noi siamo partiti isolati da 2-3 minuti 2-3 minuti da lì un po' soli e risperati hanno iniziato a combattere contro la finanziaria e questo isolamento l'abbiamo un po' sospetto adesso sono talmente tanti osservatori che siamo un osservatore di tutti però nel senso il lavoro da fare tanto è sempre il contributo con il tutto se ne volete mandare osservazioni anche persone anche di tipo diciamo così io ho una casa un corrispondente della tal frazione legata alla foto della casa per dire io qua mi verrà nominata la mia resistenza anche quello è un piccolo segnale il nostro osservatore anche i tecnici sono persone che credo vogliono fare il loro lavoro ma chiaramente se sono lasciati da soli sono delle persone ricattabili dalla politica pensate in questo momento i dipendenti provinciali che a livello di insicurezza lavorativa stanno sentendo se noi li lasciamo da soli rispetto alla politica chiaramente possono subire moltissimo le pressioni se invece arrivano molte osservazioni il tecnico stesso secondo me è più sereno nel fare una valutazione oggettiva cioè sente comunque che il suo lavoro lo può pagare più serenamente questo è quello che vi voglio dire molto importante è bellissimo ed è per quello che cosa ha preso incontri perché la politica tecnica noi potremmo dormire anche suoi tranquilli in soltanto con quello che abbiamo fatto vedere adesso e tante altre cose che non vi abbiamo detto perché ci sono tanti altri aspetti che forse sono anche secondari che vorrei a caso di comunicarli tutti in soltanto con questi aspetti noi dovremmo anche potremmo anche fare il battito tv piuttosto che questo incontro piuttosto che altri incontri che faremo la prossima settimana però vogliamo stare tranquilli veramente cioè perché sappiamo che purtroppo le pressioni dei politici sui tecnici che valuteranno possono essere molto forti e per questo abbiamo cercato di farlo sapere dappertutto questa cosa e le prossime settimane alzeremo ancora di più i toni ma non in modo sgraziato o in modo scomposto però trevi i toni per tenere la attenzione molto concentrati su questi progetti e su dei progetti e quindi devo dire una parola di Tuffaline che è mi dico solo che siamo stati chiamati terroristi no? ci rasselena un po' questa cosa mio nonno che ha fatto il partigiano lo tenavano toccante no? eppure che aveva dimostrato di essersi messo allora Tuffaline che è consigliere di minoranza del Comune di Porto grazie su questa cosa qua addirittura quando il sindaco ha detto sì ma è tutto rimovibile smontare è come se si trattasse di un vero cosa non assolutamente vera perché i tempi di insolescenza di impianti del genere soprattutto di questa consistenza economica sono almeno di 30 anni 20-30 anni altrimenti non si smontano semplicemente perché non c'è un ritorno dell'investimento fatto che senza contare tutte le opere che andranno a snapturare il terminale come strade a dimensioni abnormi contro quelle che sono le tipiche murachie le tipiche strade forestali di agosto ma io direi che dal punto di vista delle osservazioni ne voglio fare anche solo uno che mi suggerisce questo accordo se noi prodiamo le eliche normi eccetera insomma nel paesaggio e vediamo una cosa che è quella che mi ha sempre attirato io sono nativo della Valvona e la cosa che mi è rimasta nei miei 40 anni di emigrazione sono queste case con tempo di pietra che sono la tipicità sono il nostro casale toscano ecco questo è il valore dell'ambiente e le chiamo alla signora di Italia Nostra credo che concordi con questa cosa la tipicità delle nostre costruzioni tra l'altro secondo piani regolatori fatti malissimo e sono credo di essere comportati da un architetto hanno trasformato spesso con concessione regolare i tetti che hanno uno spazio di 30 cm nelle piane di arredare ha fatto degli spazi di un metro e venti con travi di abete trasformando delle case di media altezza che possono essere un piano e metro in genere sei metri di altezza le ha trasformate in capanne abbassate perché se noi modifichiamo l'angolo del tempo abbiamo uno spazio di un metro e mezzo viene una capanna tutto uguale ecco la nostra tipicità e questo paesaggio a mio giudizio è bellissimo con quella con quelli edifici che si si inseriscono perfettamente nell'ambiente nel territorio sono questi il valore che dobbiamo difendere come come in generale come persone sensibili all'altro al paesaggio e il paesaggio è tutto un altro come l'insegnante anche in altre situazioni un'altra cosa velocissima perché molte cose sono state dette e che voglio notare io ho fatto una lista civica ritornando ad abitare a Vorgoltà dopo 40 anni denunciando il malaffare che è una cosa impressionante da venire a occupare e ci sono documenti pubblici che ho prodotto e che un giorno avranno credo un valore ma la cosa importante dal punto di vista della politica in generale è che progetti di questo genere non possono passare sopra la testa dei cittadini qui tutto è rimasto in silenzio prima c'era la centrale gruppo gasa anche lì le inesattezze di rossi sono da dire poco infatti ho detto gli ho consigliato di leggere collodi proprio in quella trasmissione in realtà questo progetto era giacente ma nessuno ne ha parlato sul piano sulla cosiddetta programma elettorale c'erano dichiarazioni genericissime riguardo all'energia alternativa ma non c'era nessuno indicazione che verranno fatte tre cinque dieci pare sul monte santa donna alte 150 metri e adesso l'amministrazione in perfetta sincronia e simbiosi con la vita si fa copertrice di questa cosa io credo che tutto quello che fa il comitato tra l'altro in maniera professionale in maniera precisa in maniera molto argomentata però debba essere supportato da una sensibilizzazione dei cittadini affinché per contrastare operazioni di questo tipo si debba passare per forza attraverso un referendum popolare dentro delle popolazioni particolarmente interessate e mettendo in evidenza che un confine comunale come è stato lo dato di 12 metri o che infatta negativamente su un ambiente tecnologico come quello del castello di Pombiano non può essere il confine che si fa determinare le cose ma deve essere la zona che conta che deve avere potere contrattuale le popolazioni che abitano e che vivono e che hanno scelto di tentare una vita diversa ritornando a quei posti e non dimentichiamolo che da quando è mondo il mondo c'è un abbandono e un ritorno dalle campagne se oggi c'è un ritorno in modo differente può essere un segnale per le giovani generazioni che non va assolutamente trascurato facendo un investimento i cui risultati economici e dal punto di vista tra l'altro dell'utilità in quanto risparmio energetico è tutto da dimostrare è tutto da dimostrare nel comune in quanto risparmio è chiaro in tutti i miei aspetti secondo me come si ci sono in quanto risparmio il giudice è stato e Grazie a tutti